Essendo una pedagogista mi occupo anche di violenza, mi occupo di donne che hanno comunque problematiche, di madri con figli problematici e quindi di conseguenza ho trovato una definizione molto bella di quella che era la condizione poi delle donne brigantesse. Naturalmente io voglio fare un parallelismo con la violenza di un tempo e quindi della violenza che hanno subito le donne, le nostre brigantesse appunto, e la violenza invece ai giorni nostri che diciamo è un qualcosa di simile ma che ha delle forti contraddizioni. È doveroso innanzitutto parlare e comunque specificare che cosa significa veramente femminicidio perché non sempre è chiaro quello che è il significato di questa parola, di questo termine. Il vocabolario ci dice che il femminicidio è la forma estrema di violenza di genere contro le donne e il prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogene, quindi quali tipi di violenze può subire una donna, quali possono essere questi tipi di violenze, maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, violenza sessuale, violenza educativa ma anche violenza sul lavoro, economica, patrimoniale, anche istituzionale. Tutte queste violenze comportano cosa? L'impunità delle condotte poste in essere sia a livello sociale quanto dallo Stato che ponendo la donna in una posizione indifesa e quindi in una posizione di rischio possono culminare poi con l'uccisione oppure con il tentativo di uccidere la donna stessa oppure possono culminare in forme di morte violenta di donne e di bambini, quindi per femminicidio non si intende solo la morte delle donne da parte dell'uomo, l'uccisione delle donne, bensì intendiamo con questo termine suicidi, incidenti, morti oppure le sofferenze anche solo fisiche e psichiche che vivono le donne. Quindi il femminicidio, è importante questo chiarirlo, non è un fenomeno che riguarda solo l'uomo, non è un fenomeno che riguarda la violenza dell'uomo sulla donna nell'ambito domestico ma per femminicidio si intende quella violenza che viene perpetrata da anni anche da parte dello Stato anche nei confronti delle donne, da parte delle religioni nei confronti delle donne. E poiché sappiamo che tutte le società patriarcali hanno usato e continuano a usare il femminicidio come forma di punizione e di controllo sociale sulle donne. In realtà la cultura poi rafforza in mille modi la concezione per cui la violenza maschile sulle donne è un qualcosa di naturale. Per anni ci è sembrato qualcosa di naturale, era normale la supremazia dell'uomo rispetto alla donna. Così come è passato sotto forma di normalità il fatto che l'uomo potesse tirare uno schiaffo alla propria donna, comunque potesse usare delle forme di violenza contro la donna. E questo forse è una violenza illegale ma legittima, lo è stato fino ad ora. E questo è da sempre stato uno dei punti chiave del femminicidio. Ma il mio problema, quello di cui parlavamo con il signor Scalzo è, ma ad oggi questo è un problema legato ancora ad un tipo di cultura patriarcale. Perché nello scorrere del tempo questo tipo di fenomeno ha cambiato, ha cambiato visione. Adesso lo vediamo e lo leggiamo sotto un profilo diverso. Io sono una pedagogista quindi mi occupo fondamentalmente di processi educativi e formativi. E noi nel nostro lavoro ci rendiamo conto che, benché per anni ci hanno fatto credere che il femminicidio fosse dovuto ad una violenza sulla donna in quanto tale, quindi una violenza sulla donna in quanto donna, no? Quindi come se ci fossero questi uomini che odiano le donne, che quindi hanno questo desiderio di rivalza nei confronti di queste donne, che sono donne che hanno un certo desiderio di autodeterminazione. La donna che si allontana da casa perché vuole lavorare, la donna che desidera lasciare il marito perché ha voglia di... o ha il desiderio o non sta più bene con il proprio uomo o perché si innamora di un altro. Ecco, il problema qual è? È che allo stato attuale invece non si tratta più solo di una violenza di genere, ma ci troviamo di fronte ad una società che è violenta in generale, cioè è violenta verso tutti i soggetti più fragili. Noi, come potete vedere anche attraverso i TG, vediamo la violenza delle insegnanti sui bambini indifesi, diciamo anche, abbiamo visto l'evento là del bambino autistico che veniva maltrattato. Vediamo ogni giorno maltrattamenti e violenze psicologiche da parte comunque di persone che ritengono di avere l'autorità. Questo passaggio che è stato negli anni, come dire, relegato ad una cultura patriarcale e meridionale, quindi in realtà c'è stato anche sui giornali quel fatidico, come dire, evento raccontato da quella ex, diciamo, no, quella vecchia calabrese, no, che adesso è una nostra ex corregionale che poi ha detto che in Calabria ancora c'è questo tipo di fenomeno, no, esiste questa supremazia dell'uomo rispetto alla donna. Ebbene, il problema è che non è più così, non è più un fenomeno strettamente meridionale, perché non è più un fenomeno culturale, cioè legato quindi ad una cultura patriarcale, ad una differenza di genere tra uomo e donna, ma è un qualcosa che va oltre, di cui vi parlerò però dopo. Intanto ho bisogno di fare il profilo delle brigantesse, perché poi mi sembra giusto. Nella nostra storia, la storia del sud, c'è una tragedia dimenticata, ed è la tragedia delle donne che si opposero, che tutti noi conosciamo come le donne dei briganti. La storiografia del risorgimento le ha bollate come drude, come diceva il nostro professore prima, come delle donnacce. Ma chi erano queste donne? Chi erano le brigantesse? Qual è la differenza tra la donna violata o comunque la donna che subiva, quindi la brigantesse, rispetto alla donna di oggi? Le brigantesse erano donne forti, erano donne che usavano le armi, erano donne che affiancavano i loro uomini, che li seguivano nella loro latitanza, erano anche donne feroci, a volte anche più degli uomini, erano abili con il coltello, col fucile, avevano coraggio da vendere, passionarie, eroine, crudeli, sottomesse sicuramente, ma più spesso erano indipendenti e libere anche nella loro vita privata. Ecco perché si diceva che erano anche donnacce, perché si dice che facilmente passavano da un letto all'altro. E però erano donne fiere di combattere per se stesse, per la propria terra e per l'indipendenza del sud. Ma se il brigantaggio fu anche un movimento politico-sociale di reazione ad una condizione di violenza e di oppressione, diciamo che il brigantaggio femminile fu visto anche come una prima forte ribellione allo stato di soggezione delle donne napolitane, oltre che come un moto di protagonismo e di protezionismo per il riscatto dei propri figli e dei propri uomini e per la riscossa politica, sociale ed economica del Mezzogiorno. Quindi donne brigantesse, non solo dedite alla famiglia e ai fornelli, ma donne che erano protagoniste, che si sono rese protagoniste di un moto rivoluzionario. Donne attive in battaglia, sui monti, nei paesi, nelle piazze, nei tribunali, dove con la loro furbizia innata mutarono anche spoglie e atteggiamenti. Donne però che sebbero affrontare il martirio, le sevizie, le crudeltà del nemico, che andarono incontro alla morte anche con grande dignità, rendendo immortali le loro concrete testimonianze. E queste donne riuscirono a conquistare sul campo l'ammirazione del popolo del Sud Italia e lasciarono poi un messaggio che nel tempo le ha rese protagoniste poi di un'epocale sconfitta, perché, ahimè, c'è stata poi un'amara unità. Tante di esse sono rimaste nell'anonimato, tante altre sono diventate invece delle grandi eroine. Tutte comunque protagoniste indiscusse di una guerra alle frontiere della morte e del carcere, così le definisce in un libro sul brigantaggio. La nostra epoca invece ci consegna un profilo di donna sotto una luce completamente differente. Da donna combattente, determinata, eroina in nome di ideali patriottici, oggi abbiamo invece una femmina. Passatemi il termine, perché se parliamo di femminicidio, come? Ce lo vogliono far passare. È un qualcosa di molto avvilente, di molto riduttivo, perché quando parliamo di femminicidio in quella accezione lì sta a denotare quasi un fenomeno che è inferiore agli omicidi, ma non è così in realtà. È come se si volesse ridurre il campo, come se si volesse relegare la situazione semplicemente al fatto, vabbè, violenza sulle donne, punto e basta. Passiamo per esempio a dei dati. I numeri del femminicidio in Italia, perché poi è importante attualmente invece esserne a conoscenza. Nel 2006, su 181 omicidi di donne, 101 erano femminicidi. Nel 2010, su 151 omicidi di donne, 127 erano femminicidi. Le ricerche criminologiche dimostrano che su 10 femminicidi, 7 o 8 sono in media precedute da altre forme di violenza nelle relazioni di intimità. E qui ci ricolleghiamo alla doppia violenza di cui parlavi tu, Pino, prima. Cioè l'uccisione della donna non è che l'ultimo atto di un continuum di violenza di carattere sia economico, sia psicologico e sia fisico. Oltre alle uccisioni della donna, dobbiamo tenere in considerazione il numero di suicidi da parte di donne che invece sono vittime di violenza domestica. Per esempio c'è uno studio europeo nel 2006 che indicava una media di 7 femminicidi come conseguenza di progresso a violenza domestica al giorno nei 27 Stati europei. Quindi secondo questa ricerca, nel 2006 in Europa, questa io l'ho trovata una delle ultime perché poi l'Istat non è che, adesso nel 2014 dovrebbero fare una nuova ricerca sullo stato del femminicidio. Su 3413 persone sono morte in conseguenza della violenza domestica subita 1409 erano donne uccise dai partner o ex partner violenti, quindi i femminicidi 1010 erano le donne che avevano scelto il suicidio a seguito della violenza domestica subita 272 le donne che avevano ucciso i mariti violenti 186 gli omicidi collaterali, cioè il padre che uccide i figli e la moglie oppure persone a corso, in soccorso o uccise per errore. 536 gli uomini che dopo aver ucciso la donna su cui avevano esercitato violenza si erano uccisi. Quindi il quadro in Italia è devastante, molto preoccupante. Sulla violenza di genere si potrebbe parlare per giorni ma questa però non è una sede appropriata. Quello che mi preme invece è sottolineare e poi dopo concludo che non è più un fatto legato ad una visione, quindi la visione della donna in quanto essere inferiore all'uomo per cui per questa viene uccisa in quanto cerca la propria libertà o ha un forte spirito di autodeterminazione, non è più questo il problema. Per noi esperti del settore il problema è generale, nel senso che c'è all'interno e questo lo vediamo nelle scuole, lo vediamo con gli alunni anche, c'è proprio un problema di difficoltà di relazionarsi. L'educazione sentimentale è certo, altro che non solo, l'educazione emotiva, cara, di educazione emotiva parliamo perché? Perché ai giorni nostri vuoi per un sistema familiare in cui spesso la condizione genitoriale, il nucleo familiare è cambiato, adesso abbiamo figli separati, abbiamo figli con naturalmente famiglie dove entrambi i genitori lavorano, c'è tutta una serie di fattori di rischio che poi consentono, o che meglio, che non ci permettono di monitorare quello che è un giusto percorso educativo per i nostri figli. Perché adesso vi parlo dei figli? Perché è un sistema, è tutto molto collegato al sistema educativo. I nostri ragazzi non sanno più come reagire ai no, non sanno più reagire alle frustrazioni ed ecco perché è un fenomeno che è in crescita, perché i ragazzi, i giovani che attualmente, abbiamo visto ragazzi di 16 anni che hanno ucciso la propria fidanzata, ebbene, vediamo quindi che il fenomeno è cambiato, nel senso che quindi non si uccide più semplicemente perché la donna ha una voglia di autodeterminazione, ma si uccide anche semplicemente perché non si è ricambiati. È chiaro quindi che in questo c'è tutta una, come dire, una responsabilità educativa da parte di noi adulti. Se per primi noi adulti non sappiamo reagire alle frustrazioni, se per primi abbiamo difficoltà nel regolare le nostre reazioni alla rabbia, perché ci capita facilmente di andare a cosenza nel traffico e da una piccola discussione in macchina per qualcuno che ti passa davanti, può succedere, come dire, un guaio immenso, oppure i ragazzi che in discoteca si ammazzano perché il ragazzo ha guardato la fidanzata. Quindi siamo ad un livello di emergenza sociale enorme in questo senso. E quello che a noi ci resta da fare come persone umane semplici, nel mio caso educatore, sempre come noi, come invece genitori in questo caso, è come persone invece impegnate nel sociale, perché anche voi, insomma, sia come associazione, sia nella vostra cooperativa, credo, insomma, che vi occupate di sociale, e quindi condurre una battaglia culturale nei confronti proprio di un'educazione all'emotività, un'educazione al rispetto, un'educazione alla responsabilità delle proprie azioni, un'educazione nei confronti del rispetto reciproco, cosa che manca. Lo vediamo, sono poche adesso quelle situazioni in cui i gruppi o comunque si rispettano, c'è un agonismo sfrenato, c'è una voglia di supremazia sfrenata. La cosa che mi preme, però, è che è fondamentale che passi questo messaggio, che il femminicidio non riguarda più un fenomeno patriarcale, arcaico, né meridionale, ma una questione universale.